we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone ragazzi season numero 9 vuol dire anche sfide della settimana numero 19 vogliamo oggi vedere insieme la sfida non sono difficili la sfida che ci chiede di andare nelle come cavolo si chiamano cavalcare le correnti in varie city la prima ragazzi è la nuova neo inclinata e come vedete questi aggeggi giganti sono i generatori di corrente basta semplicemente ragazzi una volta a partita andarci dentro in modo da cavalcare la corrente per quanto riguarda invece la seconda la seconda scia che dobbiamo cavalcare si trova esattamente ad una nuova city ragazzi quella che ha sostituito corso commercio che andiamo a vedere insieme che si chiama mega mall come sempre ragazzi come appena fatto molto semplicemente basta semplicemente andare nella corrente intanto guardate quante novità voglio farvi intanto una domanda mentre arrivo a mega mall ragazzi visto che mentre sono in live alcuni ragazzi hanno espresso il loro dissenso in poche parole non erano d'accordo a voi come sembrano queste nuove piattaforme per creare i vortici della corrente pensate che siano una cosa fatta giusta pensate che siano sbagliati io mi riservo ancora un secondo di dare la mia opinione perché voglio voglio prima provarli perché sembrerebbe sono molto strani ragazzi sono molto strani ma come avevo anticipato due secondi fa per quanto riguarda pinnacoli come vedete qualcuno ha già fatto una scala e una piattaforma basta semplicemente andarci dentro per fare il secondo obiettivo e allora dopo aver fatto anche la sfida numero 2 andiamo subito a leggere anche qual è la terza city dove dover andare per ovviamente completarla e quindi ottenere le prime stelline indispensabili per il pass battaglia sezione sfide andiamo su quelle della settimana numero 1 e la terza no non c'è erano solamente due quindi ragazzi easy pinnacoli pendenti che in realtà si chiama nuova tilted che in realtà si chiama non me lo ricordo e megamall passateci in mezzo e completerete la sfida io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao ciao ciao